Non esiste equità sociale senza sanità e non esiste la possibilità di fare un elenco della spesa dove le priorità, come fa spesso i sindacati e come appresso fa il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, sono tutto. Il reddito di cittadinanza, il Servizio Sanitario Nazionale, però anche il bonus facciate, però anche la transizione ecologica, però anche questo, però anche quello, non esiste. Non esiste, sono scelte alternative e allora la nostra scelta alternativa è dire che siccome quest'anno ci sono 10 miliardi di euro perché hanno fatto una normativa sulla copertura delle spese energetiche fatta talmente male che ha prodotto 5 miliardi di tesoretto perché come gli avevamo detto in anticipo quando siamo andati dalla Meloni era scritta male perché sti crediti di rimposta così non funzionano, c'è, ringraziando Dio, una maggiore crescita e siccome l'Eurostat ci ha picchiato e ci ha riaddebitato il glorioso gratuitamente di Conte negli anni precedenti noi abbiamo 10 miliardi tra i 10 e gli 11, quei 10 miliardi tra i 10 e i 11 miliardi quello che noi proponiamo è di metterli tutti fino all'ultimo euro per azzerare le liste d'attesa sulla sanità affinché la gente non si indebiti per curarsi perché ha un principio di civiltà e di dovere. Quello che diciamo a Giorgia Meloni è questo hai fatto un errore madornale perché ti sei dimenticata di chi ha tenuto insieme il paese in questi tre anni perché ti sei dimenticata che abbiamo una popolazione che si è longeva ma è anche piena di malattie croniche perché questo sistema in piedi non sta più, non sta più.